iniziamo dal negi per un video su un'altra spesa in giappone eccoci qua questa volta è stata molto diversa è costata di meno siamo su una sessantina di euro vabbè portiamo da due bibite con mia moglie al suo mercato costano 120 sono sotto 70 centesimi di euro qua ci sono dei sassicciotti piccoli per la bambina per la bendo per la scuola questo furicake questo si aggiunge al riso è comunque fatto di verdure essiccate roba essiccata l'alga poi iniziamo con un po di verdure questo giro mi ha fatto un verdure carne un po di più questo lo siamo a posto dei spinaci perché condire molto più ferro quindi molto buono poi abbiamo le uova che ho notato che cominciano a fare i pacchi ormai da 10 no più da 12 c'è vabbè so e siamo sempre su quel prezzo l'andone delle due euro a pacco abbiamo preso questo pollo già cotto la carne 3 di maiale perché per fare le zuppe hot pot so chiacchi macinato normalmente polpetto bolognese pancake per mia nostra figlia questo è lo snack giapponese per bambini la maionese 50 per cento meno di calorie maionese giapponese totalmente diversa la nostra maionese altre verdure se la confezione di quelle verdure costa intorno 70 80 centesimi luna fino ad arrivare un poco intorno a un euro plastica nella plastica abbiamo vediamo subito adesso ha preso qua ci stanno e se c'è salmone salmone e salmone e pesce la la mudilla per il nostro per i nostri figli patate dolci e tamame che chi va dal giapponese lo sa pure in italia si trova poi le carote vende zuppe o qualcos'altro questa è una salsa giapponese che si usa per fare sukiyaki specifica per fare sukiyaki mandarini i snack per la nostra figlia sono questi snack fatti apposta per bambini di solito hanno una base di riso quindi sono come delle galette di riso caffè latte mia moglie ha preso il succo di frutta mista frutta e verdura e io nel frattempo mentre sto facendo questa cosa qua i miei figli giocano con mia moglie ecco perché sto sorridendo germogli queste sono straordinarie in qualsiasi forma di zuppe altro fuori ca che per noi per mia moglie pesce e verdure germogli di soia funghi per zuppe questo è tipo un l'alcol si aggiunge a come si stessa cosa però questi qua che d'altro ti dicevo erano sono delle specie di formaggini alla frutta come ho accennato all'inizio del video la spesa è costata intorno agli 8 mila 9 mila yen facendo un cambio molto molto approssimato siamo a di sotto dei 60 euro di spese se avete fatto caso la prima spesa che è stata fatta quando siamo rientrati è stata più per andare se le sassi le cose più che mancavano a capo che era tutto vuoto la seconda spesa più specifica su carne e verdure e così è man mano ma mia moglie poi ha attivato un servizio per la spesa a domicilio quindi ci sarà man mano settimanalmente arriveranno dei prodotti che sono quelli che ne utilizziamo di più e mia moglie fargli ordina settimanalmente se mi ha bisogno di carne si va a comprare polo carne se cose qua dovete calcolare che le quantità non sono eccessive perché noi non cuciniamo grandi quantità ma ogni ingrediente viene utilizzato per piccole preparazioni facciamo tante piccole preparazioni nella cucina giapponese ecco perché a volte vedete tanti piattini a tavola perché non c'è solo una cosa non avete visto tipo la pasta l'ho comprata l'altra volta nel negozio internazionale ho preso la gragnano e pasta corta gragnano se voglio gli spaghetti vado al negozio internazionale così per altre cose più specifiche ecco perché non vedete roba italiana in queste spese perché gli alimentari giapponesi non hanno niente di italiano quindi cosa ne pensate fatelo sapere nei commenti sotto questo video io vi mando un bacio un grande abbraccio grazie al tempo che mi dedicate a me alla mia pagina